Jessica Shepard è un'esperta di serial killer. Mani dietro la schiena! In ginocchio! Wilson, mandami un aiuto. Ah, un'altra cosa. Quest'uomo che si diverte a uccidere le donne deve essere preso e punito. È quello che ho fatto. E l'hai fatto benissimo. Ma il nuovo caso non segue gli schemi classici. Il corpo è arrivato quassù. Controlliamo il livello delle maree. Perché stavolta... Credo di conoscerlo. ...è l'assassino a spiare lei. So che mi sta pedinando. Ora... Qualcuno potrebbe essere ossessionato da te e potrebbe spiarti. Ogni nuovo indizio è un messaggio. Ci siamo esposti. Poteva ucciderla. È un'occasione persa. Dobbiamo informarla sui rischi. È un poliziotto. Sa cosa rischia. Ogni delitto. Un altro omicidio. Un avvertimento. Conoscevo tutte e due le vittime. Questa non è una coincidenza. Posso cavarmela da sola. Davvero? Per questo ti muore tanta gente intorno. No! La scena del crimine è pulita. Niente armi, né impronti. Come incastri un assassino? Hai un epistolo a seguire. Credo sia una preda. Quando è lui... ...che sta incastrando te. Shepard. Sento il tuo cuore che batte. Sei la sua preda, ma non ti segue. Mi guarda. Ashley Jupp, Samuel L. Jackson, Andy Garcia. Ai tuoi colleghi devi dire sempre la verità! Te la dico adesso! Come il collezionista... ...e nella morsa del ragno. Mai nessun crimine è stato così ben architettato. La tela dell'assassino. ...e nella morsa del ragno.